salva tutti e benvenuti alla quinta prova del campionato d'inverno fossa olimpica al TAV cascata delle marmore la temperatura per la prova è ottima sono due gradi ora ci prepariamo e poi andiamo a fare queste due serie speriamo di non rimanere ibernati in pedana nel frattempo che aspettiamo da andare nel campo sentiamo chi ha sparato diciamo come è andata bene bene però è tanto freddo quanto hai fatto 22 buono anche troppo ma mi diceva l'atleta kurti che lo vediamo la sedere che è vero che i piattelli tornano indietro a noi fai il twist buono buono kurti atleta kurti com'è andata la prova prima prova bene 22 anche tu ci lamentiamo questo troppo forti come si fa con non si può competere abbiamo le cartucce un po po strane ritoccate quasi di quelle centrati ok solo per questo tanto non ci sento nessuno dove comprate che voglio anche io faccio da solo ma sì le ordine perfetto ci vediamo dopo speriamo la prima serie è andata ragazzi è andata è andata anche male io ho barca menato gli ultimi sei piattelli 4 0 un l'avevo messo prima venti a posto per non farsi mancare niente la tata alle cruci invece un ventunino insieme insieme al babbo ma però qui la scoperta assoluta è questo signore qua giù il super atleta damiano di fa nove piattelli e non è il suo sport mi raccomando la seconda il suo sport che cos'è se tu voglia fai piattelli alla fossa guarda come voglio che al contrario così a posto signori noi abbiamo finito io ho fatto venti in altra volta ma qui abbiamo la trattata alle grucci che la rotti veramente ho fatto 24 se sa come perché io saprei però complimenti 45 dalle grucci l'altro laggiù non pervenuto 19 21 19 rispetto alle grucci questo qua comunque abbiamo recuperato due piattelli e due piatti e quindi siamo per ora terzi a 2 59 aspettate a mi dicono la regia che stanno arrivando i rinforzi spada veniero e basta vabbè comunque non è poco non è poco aspettiamo